Il peccato È stata l'ira di Dio verso di me, verso di te e in che modo può calmarsi quest'ira, questo giudizio. L'ira di Dio è stata calmata dalla croce e noi vogliamo ringraziare il Signore per quest'opera. Non vogliamo mai dimenticarla. Noi presentiamo spesso necessità, bisogni, ma il centro del ringraziamento è proprio la croce di Cristo Gesù. E sappiamo dalla parola di Dio che questo è il sacrificio propiziatorio, quello che ha soddisfatto Dio completamente. Che non diventi un'espressione imparata a memoria, che sia densa di significato. Quando noi diciamo Dio mi ha salvato, che possiamo avere piena coscienza di ciò che ci aspettava senza Cristo, a cosa eravamo destinati. Senza la croce di Cristo non c'era nessun bene per noi, ma ringraziato sia il Signore, perché Dio è la mia salvezza e nessuno può togliere quello che Dio ha fatto per me. Quel sangue è ancora davanti al Padre, nell'alto dei cieli e parla di grazia, parla di perdono, perché Gesù rimane per noi il nostro perfetto sommo sacerdote e lo sarà in eterno, fratelli e sorelle. Voglio concludere questo messaggio. Non avrò, non avrò paura di nulla, perché Dio è con me, perché la mia anima è salva e possa essere questo il giorno in cui tu puoi dire, si è acquetata l'ira di Dio e oggi ho visto la salvezza di Dio nella mia vita. Ma dopo che avrai sperimentato questo, la spinta che noi abbiamo, che noi riceviamo per poter proclamare Cristo, arriva dall'alto, arriva dallo Spirito Santo di Dio e noi vogliamo chiedere che questo Spirito possa davvero riempire l'anima nostra per poter annunciare Cristo con franchezza e con potenza. Non vogliamo trattenerci, perché il mondo ha bisogno di fare un incontro con Cristo Gesù. Dio è meraviglioso, ha fatto cose grandi e l'abitante di Sion, che ha sperimentato tutte queste cose, non può tacere.